Musica Signor Pettiru di Vincenzo? Eccolo lei. Grazie. La porta? Sì. Buongiorno. Ecco qua. In base alla sua richiesta di provetto lavorante sul bollettino del collegio dei barbieri di Angona. Referente? E questa mia moglie che ha attaccato alla stufetta? Ultimamente due anni presso la casa del passeggero di Frosinone e un anno da Remo e Iolanda, Rieti, Salon de Baudet. Ecco, questo è il ben servito del signor Remo. Anche controfirmato da Iolanda. Si vuole controllare. Come sfumi? Punta forbici. Macchinetta? Rifugo. Spoltisci come? Forbici semplici e dentata. Tagli tradizionali? Tirato liscio alla Oberdan, la Mascagna, l'Umberta. Anche mano speciale per il riporto. Semplice, girato, dirinderzo. Una mia specialità frizione al torlo d'ovo. Con chiara per bulbi de perili. Tagli moderni? Scultura a rasoio, taglio strinato a candela, stiramento capelloriccio a fonco, tonatura, stile ringo, taglio a spazzola, pioggia a scalare, pizzuto a pera. E seguisco anche il taglio capellone, benché esso ormai è al tramonto. Ma si capita. Ok. Vediamo un po' che sai fare col signor Tortorelli. Bella testa. Li porta sempre così o è venuto in motocicletta? Si è comodo là, signor Tortorelli. Vorrei farmi le mani. Manicure. Omo, donna qui sarebbe troppo spregiudicante, giusto?